anche questa fanno la gara vedi qua ma volevo iscrivermi solo che vogliono la licenza amatori ormai fanno più poco tra infarti e minchiate varie non fanno pochi amatori volevo farla perché ho detto va beh carina però non posso non basta la licenza la licenza di iscrizione alla federazione perché perché se è scritto alla spuncia sei già iscritto alla federazione perché sei già scritto alla spuncia e quindi come come società hanno detto che funzionano come guanti se vuoi vai basta che poi mi fai passare guarda non inseriamo ma dove è a sinistra no di qua di qua di qua di qua vai giù di nevo guarda non inseriamo ma guarda non inseriamo ma guarda non inseriamo ma guarda non inseriamo ma cosa succede? non li aspettavo, poi c'è la bicicletta ci siamo? manca uno, manca frengo, frengo e stop ma io sono passato alto, ho sbagliato sì, perché di solito adesso si passa sotto, sotto è pulita io la prima volta che passo di lì è uguale sì, tanto le strade portano a Roma e anche dopo i primi tornanti io ho un po' il mio tempo vai tranquillo, basta che paghi il caffè tutto è perdonato anche la mazza caffè, è un amaro cuore allora, adesso avrei Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è molto bello Mirko, però non l'avevo mai fatto così a freddo E' sempre venuto da lontano? Si, venivo dall'incisa. Non è male perché in salita ti scaldi. No, di solito quando vengono questi qua di Sestri faccio il timone, salgo su, poi faccio casinelle, scendo giù, risalgo Cioè no, aspetta, casinelle prendo poi una che c'è sulla sinistra che ti porta quasi a metà in fondo al timone E poi risalgo su e faccio questi qua Si, bravo, bravo, Ureco Si, bravo, bravo, Ureco Grazie 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 Sì. Sì, Sì. aspetta eh ecco aspetta ok è partita è partito il tour è partito il tol che si vede uno è arrivato secondo dietro a passeri è arrivato secondo dietro a stefano passeri dice lui che è peggio che uno di 20 anni è vero ovviamente io tocco prendendo perché è caduto si è spaccato per i tre legamenti della spalla questo qui non sei l'unico c'è la fulgor è quella che dà anche la bici a passeri ah scusami l'altro col motore Polini ha la fulgor col motore Polini bella qua il motore Polini è una bomba ma è bellissimo però se non lo vediamo già è già tra un po' di città è una batteria da occhio caldo è un po' di città 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 sì sì e quello laggiù è la lucertola l'agriturismo se vai su fai quello che si chiama Rocca dei Corvi Rocca dei Corvi non l'ho mai fatta questa qua secondo me non è un cazzo Paolo ci sono lì è uno che teneva lì mi sembra le api ma non è un sentiero è quello che ha fatto quel tipo che abbiamo visto su quel video che avevano dato su di qua ma la cava ancora attiva la cava non fanno non hanno diciamo permesso di procedere ma hanno un permesso che si chiama pulitura vai e 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 mi sto mangiando il pane nel cassetto il numeri non riesco proprio a gestire oggi proprio non ci sia non riesco a tenerla dritta va dove vuole ma non hai forcella vedi infatti guarda come è andata giù non sta lavorando secondo me senza aria cosa fa sta giù non torna infatti va dove vuole non riesco a farla andare io la chiudo a questo punto secondo me se la chiudo va giù meglio non c'è problema oh 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 non c'è 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 ecco io quella che va giù di qua non l'ho mai fatta e questa qua facevamo il fettucciato non c'è non c'è perché è lungo dovevo in teoria avrei dovuto vedere questa stagliare ma alla prossima volta magari che cambio l'olio che stiamo? che stiamo? guarda dove arrivava la strada arrivava giù? si sinistra guarda io parlo guarda la parte c'è lì è lì c'è lì la lì la Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è la strada di quel cantiere? Quella lì è la strada che va su. No, quella lassù non c'entra un cazzo. Bravo Paolone! Vai, spostaci avanti, danni che versiamo lo spazio freno. C'è uno bello treno, quello bicolore. Marrone e nera. Che bello, eh? C'è uno bello treno. C'è uno bello treno. No, l'altra volta non era così sporco. È venuta giù questa settimana. Ma non era lì. Sì, vabbè, perché è uguale. Diciamo che quello lì è il primo che hanno aperto. Sì, vabbè. C'è uno bello treno. Secondo me è comunque un po' 60 minuti. C'è uno bello treno. C'è uno bello treno. Però... C'è uno bello treno. C'è uno bello treno. C'è uno bello treno. stric Grazie. È successo qualcosa perché è ingestibile. Adesso non è il tuo mondo. Guarda lì. Un lavoro. Un lavoro e poi si pianta. Non so che cazzo è successo. Quanta anni c'è? È a 60. Uno alla tera. Ma ormai siamo infatti. Sì sì. Devo stare attento perché mi faccio del male. Ti lascia andare? No, non aspetta. No, non espetta l'area. No, non ci a fare. So, come out. Wow. Andiamo. Ormai. Sì. Sì. Ormai. Sì. Andiamo. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ma non facciamo i freschi allora? Aia! Mi fa male il culo Allora il cibo è l'ideale Con le tue dietre Vabbè ma se facevamo i freschi facevamo 200 metri a salire e poi prendevamo questa Lo fai? Vai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì ma l'ultimo vai lo prende sempre nel culo perché non ha il tempo di riposarsi un attimo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.